Grazie, buonasera a tutti, vi rubo un po' di tempo anche stasera a distanza di un paio di giorni sulle restrizioni della zona rossa, noi siamo sempre qui, cerchiamo di leggere al meglio e di fare chiarezza su questo DPCM, in tanti anche in questi giorni vi avete chiesto cosa cambia, cosa si può fare, cosa non si può fare, allora cerchiamo di capire tutte quelle che sono le cose consentite e le cose che non si possono fare in questa settimana fino al 6 di aprile di zona rossa. Intanto partiamo dalla prima domanda rispetto al coprifuoco, il coprifuoco è in vigore, sì, quindi rimane in vigore dalle 22, quindi dalle 10 di sera alle 5 di mattina. Per che cosa si può uscire di casa? Soltanto per motivi di lavoro, motivi di salute e motivi di urgenza, ovviamente il tutto con autocertificazione e per gli stessi motivi ci si può muovere verso una regione diversa, quindi tutti gli spostamenti sia per uscire di casa sia per spostarsi in un'altra regione devono essere motivati da lavoro, salute o urgenza naturalmente nell'autocertificazione. Ci si può spostare per raggiungere l'aeroporto? Ovviamente sì, ma sempre per muoversi per gli stessi motivi. Si può uscire a fare una passeggiata? Ecco il decreto del 3 marzo prevede la possibilità di uscire a prendere un po' d'aria e fare una passeggiata, però sempre nei pressi delle abitazioni di casa. Sono cose che conosciamo, sono cose che speravamo di non dover ripetere più, speravamo di non dover fare più perché sono, vi ricordate, quelle del primo lockdown, ma essendo zona rossa dobbiamo tornare a familiarizzare con queste restrizioni. Si può fare attività motoria? Sì, ma solo in forma individuale e all'aperto, quindi purtroppo permangono le restrizioni e le chiusure per i centri sportivi nei quali si fa attività sportiva di gruppo, le chiusure delle palestre. Consentitemi anche di fare un saluto e abbracciare tutti i titolari, frequentatori delle palestre che oggettivamente insieme agli imprenditori e commercianti sono fra i più colpiti soprattutto di queste nuove restrizioni. In realtà le palestre non hanno mai riaperto e sento di fare un saluto nei confronti di tutto il mondo delle palestre. Si può uscire fuori dal comune per fare attività sportiva? Ecco questa una peculiarità, nel senso che il decreto e le risposte del ministero alle FAQ, alle domande frequenti fatte dagli utenti ma fatte anche da noi sindaci, la risposta è questa. Si può uscire fuori dal comune per fare attività sportiva soltanto in bicicletta o di corsa, non ci si può spostare con l'autovettura. Ora farebbe un po' ridere la cosa, la spieghiamo meglio. Non ti puoi spostare dal tuo comune in macchina per fare attività sportiva in un altro comune. Puoi solo arrivare nell'altro comune se hai iniziato l'attività sportiva nel tuo, quindi se ci sei arrivato correndo o se ci sei arrivato in bicicletta. Si può uscire dal comune per andare a fare acquisti? Sì, se nel proprio comune non ci sono punti vendita o nel caso in cui un comune contigua al proprio, presenti virgolettato, una disponibilità anche in termini di maggiore convenienza economica. Nella sostanza no, nel senso che se non ci sono queste ragioni di esigenza e quindi se non ci si, non si trova nel proprio comune un prodotto di prima necessità, allora lo spostamento è consentito. In caso contrario, non è consentito spostarsi in un altro comune per fare acquisti nei negozi che risultano aperti. Si può andare a trovare amici e parenti? La risposta è sì per un massimo di due volte al giorno con minori di 14 anni ma sempre all'interno della propria regione. Quindi massimo, scusate, una volta al giorno al massimo due persone, quindi una volta al giorno massimo due persone con minori di 14 anni ma soltanto all'interno della propria regione, sempre però con il rientro nella propria abitazione alle ore 22. Si può andare nelle seconde case e questa è la domanda diciamo clou soprattutto per chi vorrebbe muoversi nel weekend di Pasqua, si può andare nelle seconde case ma solo il nucleo familiare se dimostra di avere titolo prima del 14 gennaio 2021 e purché la casa non sia abitata da altri. Ora, che cosa significa? Significa che se tu hai acquistato o affittato casa, la seconda casa, la seconda abitazione al mare o in montagna prima del 14 gennaio 2021, si capisce perché prima del 14 gennaio 2021, ti puoi spostare verso questa casa a patto che non sia già abitata da altre persone. Quindi la casa deve essere vuota e devi averla acquistata o comprata prima del 14 gennaio 2021. Ci sono regioni che hanno però vietato o limitato gli ingressi, credo non sia il caso della nostra regione perché leggo qui Alto Adige, Toscana, Campania e Marche. No, nelle Marche non possono andare nelle seconde case i non residenti. Va bene. Le coppie che vivono in città diverse possono incontrarsi? La risposta è sì e lo possono fare nel luogo in cui ha residenza, domicilio o abitazione uno dei due. Quindi vi potete spostare da una città all'altra. Non si capisce se anche in regioni diverse, deduco di sì ma non è specificato, però soltanto per recarvi nella città in cui il vostro partner abbia la residenza, il domicilio o l'abitazione. Nella sostanza non potete spostarvi per andare in albergo, non potete spostarvi per andare in vacanza da qualche parte, lui può raggiungere lei o lei può raggiungere lui nella loro residenza, domicilio o abitazione. Andiamo avanti. Le persone separate o divorziate possono raggiungere i figli minori? Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario oppure per condurli presso di sé, cioè per andarli a prendere e portarli a casa, sono sempre consentiti. Bisogna scegliere il tragitto più breve. Queste sono le raccomandazioni del governo. I negozi sono aperti soltanto sabato 3 aprile, ma sono aperti quelli consentiti dal codice Ateco, quindi ritornano i codici Ateco e domenica e lunedì però, quindi il weekend di Pasqua, anzi la domenica e lunedì di Pasqua, possono rimanere aperti soltanto farmacie, edicole e tabaccai. I parrucchieri restano chiusi per tutti e tre i giorni. Quindi ripeto, sabato 3 i negozi sono aperti, ma sono aperti soltanto quelli previsti dal codice Ateco e vedremo quali sono. Domenica e lunedì sono tutti chiusi, tranne farmacie, edicole e tabaccai, mentre i parrucchieri restano chiusi tutti e tre i giorni. Andiamo avanti. Si può andare al bar o al ristorante, no, nel senso che sono chiusi per l'accesso al pubblico, ma aperti per l'asporto con queste modalità. Dalle 5 di mattino alle 18 senza restrizioni, quindi come avviene anche con la zona arancione, si può andare al bar, prendere il caffè e portarlo fuori. Dalle 18 alle 22 invece è vietata l'apertura, anche con le restrizioni, ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina, ma è consentita l'apertura alle enoteche e alle vinerie. Cioè potete ubriacarvi, ma non potete mangiare in buona sostanza. Quindi, ripetiamo, sono chiusi per l'accesso al pubblico, ma aperti per l'asporto con queste modalità. Dalle 5 alle 18 senza restrizioni, dalle 18 alle 22 con restrizioni, ovvero l'apertura è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina, quindi il caffè dopo le 18 non lo puoi prendere neanche da asporto, ma l'apertura è consentita anche a quelli senza cucina che sono enoteche e vinerie. È un invito a mangiare, a bere a stomaco vuoto. Si può chiedere la consegna a domicilio? Sì, quindi la consegna a domicilio è sempre garantita senza limiti di orari. Si può pranzare o cenare negli alberghi? Sì, senza limiti di orario, ma solo per i clienti che vi alloggiano e questo rimane confermato perché anche le precedenti misure lo prevedevano. Veniamo alle domande relative al pranzo di Pasqua e alla Pasquetta con amici e parenti. Si può organizzare il pranzo di Pasqua con amici e parenti? La risposta è sì, ma all'interno delle proprie abitazioni dove è raccomandato di stare con i conviventi e comunque in caso di incontri è consigliato di mantenere la mascherina e il distanziamento. Questa è in sostanza la replica di quelle che erano le restrizioni previste per Natale, dove la possibilità di fare il pranzo di Natale o il cenone di vigilia o come siete abituati voi a fare, non lo so, era consentito ma solo tra conviventi e comunque in caso di incontri allargati alla famiglia è consigliato di mantenere la mascherina e il distanziamento. Domanda più specifica sul pascone, si può organizzare il picnic a Pasquetta o organizzare un pranzo all'aperto? No, no perché in zona rossa è vietato uscire dalla propria abitazione se non per comprovate esigenze, quello che dicevamo prima. Quindi niente Pasquetta in spiaggia, in montagna, in collina, sul prato, al mare, dove ognuno di noi purtroppo pensava di poterla organizzare almeno quest'anno dopo le restrizioni della scorsa Pasquetta. Sicuramente ci sarà un sole che spacca le pietre anche in questa Pasquetta come l'è stato la volta scorsa, ma l'essere zona rossa, come peraltro nei tre giorni di Pasqua, sarà tutta Italia, quindi alcune restrizioni valgono in quanto zona rossa solo per la Calabria e per le altre zone rosse. Le restrizioni relative al sabato, domenica e lunedì di Pasqua valgono per tutta Italia che diventa zona rossa. Quindi non si può organizzare neanche quest'anno la Pasquetta. Io non so cosa aggiungere di più rispetto a questo perché è una situazione molto diversa rispetto a quella dell'anno scorso. L'anno scorso avevamo molta più paura, molta più incertezza su come si sarebbe sviluppato questo virus e questa paura e questa incertezza ha fatto la differenza. Ci siamo protetti di più, abbiamo preso consapevolezza che la diffusione del virus dipendeva da noi. Ora è passato un anno di restrizioni, di aperture a singhiozzo, di chiusure, un anno di quotidianità negata e questa forza non ce l'abbiamo. Siamo tutti stanchi, sono stanco anch'io e sinceramente non ho neanche tanta voglia di dirvi di stare tranquilli che presto tutto finirà perché tra l'altro porta anche male. È un anno che diciamo che andrà tutto bene, che finirà tutto e puntualmente però siamo costretti a combattere, a convivere ancora con il virus, a convivere con le varianti al virus, a convivere con un piano vaccinale che va a rilento. Però dobbiamo continuare a fare attenzione e a proteggerci con tutta la sofferenza, con tutta l'angoscia, con tutta l'insofferenza e con tutta la stanchezza del caso perché non c'è altra misura per lasciarci alle spalle questo. Ce lo siamo detti tante volte ma questa zona rossa implica ancora di più sacrifici e l'occasione è quella di rilanciare su quello che è l'unico modo per uscire da questo incubo e da questa triste quotidianità ed è quello delle vaccinazioni e questo è rivolto principalmente a chi di competenza naturalmente ma le vaccinazioni servono per noi, servono per proteggerci, servono per la nostra salute, servono per raggiungere l'immunità, servono per allontanare il virus della nostra regione, servono per fare ripartire l'economia, servono per ridare ossigeno agli imprenditori, ai commercianti, agli artigiani, ai titolari di palestre, di centri estetici, parrucchieri e barbieri, tutti coloro che da un anno a questa parte nella migliore delle ipotesi hanno percepito un po' di ristori e sostegni ma sono quelli che hanno perso forse più di tutti insieme ai nostri bambini, insieme a chi ha perso il lavoro, insieme a chi aveva il lavoro nero. Ecco, noi dobbiamo insistere e chiedere tutti a gran voce che si aumentino le percentuali di vaccinazione perché uscire dalla zona rossa, abbassare quindi i contagi dipende esclusivamente da questo. Io su questo voglio rilanciare l'attenzione di tutti, ci avviciniamo a una stagione estiva che inizia e si avvicina con molte ombre e con molte incertezze. Guardate che l'estate scorsa finché non ci sono state le chiusure, le nostre attività, le nostre strutture ricettive avevano ripreso un po' di ossigeno, dall'incontro che io, dagli incontri che facevo con i titolari di alberghi, bnb, ristoranti e quant'altro, notavo una luce nuova, un maggiore ottimismo perché effettivamente le presenze sul nostro territorio c'erano e c'erano per un semplice motivo che la Calabria, grazie ai nostri comportamenti, grazie naturalmente all'attività dei medici, dei paramedici nella nostra regione, è stata una di quelle meno colpite dalla fase 1 e le persone quando hanno avuto la possibilità di spostarsi lo hanno fatto decidendo di andare in quelle zone ovviamente turistiche che però erano state meno colpite dal virus. La stessa cosa la faranno quest'anno scegliendo però di andare in quelle zone, in quelle regioni, in quelle parti d'Italia che hanno una percentuale maggiore di vaccini finché la Calabria rimane fanalino di coda nel piano delle vaccinazioni è evidente che tutto questo sarà difficile. Bene l'apertura anche ai privati convenzionati per fare i vaccini, dobbiamo aumentare le postazioni vaccinali, dobbiamo aumentare i vaccinatori, deve aumentare il numero delle persone che oggi possa consentire alla nostra popolazione, alla nostra regione, alla nostra città metropolitana di raggiungere il prima possibile un livello di vaccinazioni che consenta a chi sceglie la destinazione per le proprie vacanze di scegliere anche la Calabria, di scegliere anche Reggio Calabria e soprattutto devono aumentare le dosi di vaccini. Finché arriveranno dosi così esigue noi saremo sempre a rilento e saremo sempre fanalino di coda. Su questo dobbiamo avere tutti maggiore consapevolezza, tutte le istituzioni devono spingere verso la stessa direzione. Naturalmente se lo Stato è presente sul territorio, viene a far visita rispetto a quella che è la situazione vaccini e non si confronta con i sindaci così come ha fatto, così come non ha fatto il generale Figliuolo è evidente che tutto questo diventa più difficile. Bene, vi ho annoiato abbastanza, chiudiamo. Io continuo a leggere alcune carte, come vedete siamo circondati da alcuni simbolini che però ci devono dare un po' di ottimismo. Il classico quadrifoglio che voi ormai conoscete è questa ruota panoramica in miniatura che però è l'auspicio e la speranza che anche la ruota panoramica, che ormai è un simbolo della nostra città, possa tornare a solcare la nostra città e le nostre vie nella prossima estate. Su questo ci stiamo naturalmente già lavorando. Grazie, buona serata a tutti.